Gianmarco Tedesco, ultimo arrivato in casa Bitonto, un solo allenamento già disponibile e pronto per la gara di domani a Molfetta dei Neroverdi. Innanzitutto benvenuto, lunghe esperienze in Serie D. Raccontaci un po' come è andata questa trattativa, possiamo dire, fulminia per portarti qui a Bitonto. Sì, innanzitutto saluto tutti i tifosi e un ringraziamento particolare alla società. In pratica è stata una trattativa lampo, ieri tramite il mio procuratore abbiamo ricevuto questa chiamata e diciamo che una piazza come Bitonto non si può rifiutare. Quindi da parte mia c'è tutta la buona volontà per fare bene, mi metterò a servizio del mister e dei compagni di squadra per raggiungere l'obiettivo previstato all'inizio della stagione. Una trattativa che ricordiamo portata avanti dal direttore sportivo Leonardo Rubini e tedesco disponibile anche per l'importante lavoro del segretario Paolo Daucelli che ieri sera ha provveduto al tesseramento, domani sei già pronto. Le prime impressioni oggi in questo primo allenamento e per questa partita di domani? Sicuramente arrivo in una società importante, un gruppo squadra forte, mi metterò a servizio dei compagni, del mister, lo ripeto. Domani affronteremo una partita importante, un derby molto sentito e cercheremo di dare il massimo per portare la vittoria a casa. Nelle ultime stagioni hai affrontato il Bitonto sempre d'avversario, prima con la maglia del Savoia, con gol, l'anno scorso con la maglia della Gelbison, con l'assist per il pareggio a valo della Lucania, oggi ti ritrovi dall'altro lato. Sì, speriamo di ripeterci però facendo tanti assist e tanti gol per questa seconda parte del campionato. L'importante però è portare a casa quanti più punti possibili in questo girone di ritorno e poi tireremo le somme a fine campionato.